Queste collezioni, man mano che vengono formate, più crescono e più acquistano un'enorme energia culturale. Questa energia culturale viene immediatamente sprigionata nel momento in cui la collezione viene riproposta in vendita. Stiamo avvicinando al prossimo appuntamento dedicato alla nomismatica e alla sua storia, in collaborazione tra Cambi Casa d'Aste e Cripa Nomismatica. L'appuntamento sarà l'8 e il 9 novembre. Ho visto due bellissimi cataloghi, molto diversi tra di loro. Ci vuoi raccontare tu qualcosa in particolare? Saranno due aste e infatti durerà due giorni l'appuntamento. La prima asta durerà un giorno e mezzo. La seconda asta poche ore del pomeriggio. Come vedi, anche questa volta abbiamo preparato due cataloghi e abbiamo pensato per le copertine di realizzare due soggetti diversi, proprio immaginando e ricordando i due collezionisti che hanno formato le due grandi collezioni che metteremo in vendita. Infatti oggi mi piacerebbe parlare soprattutto di loro. Vorrei proprio un po' raccontarvi la figura di questi due collezionisti, molto diversi tra di loro. Infatti hanno fatto due collezioni molto diverse. Innanzitutto sono due collezionisti che sono nati tutti e due in un'Italia ancora monarchica, sotto Vittorio Emanuele III. Il primo è nato nel 1914, secondo pochi anni dopo. Il primo collezionista ha una zia, nata nell'Ottocento. Figura che per noi è una grandissima rarità, perché è una collezionista di monete. Purtroppo nel nostro settore è molto maschile, ci sono pochissimi esempi di donne che collezionano monete. Quindi questa zia colleziona monete e regala ai nipote quattordicenne i primi volumi usciti del Corpus Numerum Italicorum, opera pubblicata dallo stesso re, Vittorio Emanuele III, nell'arco di un trentennio, dal 1910 al 1943. Quest'opera è ideata dal re, crea una squadra dei migliori studiosi dell'epoca, la fa pubblicare a Milano all'Aurico Eppli, alla casa editrice, ed è un'opera tra l'altro la cui vendita è destinata a scopi di beneficenza, e infatti l'intero ricavato viene poi devoluto all'allora istituto degli orfani degli impiegati civili dello Stato e alla società nomesmatica italiana. In quest'opera tracciano quelle che sono le linee di come deve essere impostata una collezione di monete medievale. Praticamente questi studiosi elencano tutte le monete raccolte dallo stesso re, più tutte le altre conosciute nei vari musei e collezioni private, e la linea che viene data è una linea cronologica territoriale, per cui il Corpus Numorum Interdil Corum pubblica in ogni volume ogni singola regione, e l'opera finita sarà poi di 20 volumi e andranno proprio dal Piemonte al Sud Italia. In quegli anni quindi è lo stesso re che in qualche modo traccia una linea ai collezionisti di quello che deve essere lo spirito del collezionismo di allora. E questa sarà la linea che verrà seguita e soprattutto in quegli anni anche ad esempio le famiglie nobili faranno un po' a gara proprio a collezionare monete per avere anche un po' l'opportunità, se ne hanno l'occasione, di condividere con lo stesso re questa passione e quindi avere anche la possibilità di incontrarla. Tornando al nostro ragazzo giovane collezionista, inizia proprio in questo contesto culturale a formare la sua collezione esattamente seguendo questi stessi principi. Inizia a raccogliere in quegli anni, abbiamo i primi acquisti soprattutto negli anni 30-40, questa persona ha avuto la fortuna di avere anche una vita molto lunga e quindi la collezione andrà avanti per ben 70 anni e alla fine sarà una collezione formata da quasi 3.000 monete e che veramente illustrano un po' tutto il cognato in Italia dal periodo alto medioevale fino all'Ottocento. Abbiamo deciso anche nel rispetto del collezionista di mantenere l'ordine da lui stabilito, quindi le monete si susseguono nell'asta in ordine geografico e cronologico. In questo lavoro che ho fatto, è stato come aiutato dal collezionista, è come se lui in quei giorni fosse alle mie spalle, proprio perché ogni moneta è accompagnata dal cartellino fatto da lui, molto ben fatto, in cui descrive la moneta ma anche tante volte cita la provenienza. Il collezionista andava spesso alle aste e ha partecipato di persona a alcune tra le più grandi vendite fatte negli anni 50-60, cito le ditte Santa Maria di Roma, la Munze Medailen Svizzera, quindi aste a cui lui partecipò e comprò queste monete. Tra l'altro collezionista che ho avuto anche il piacere di conoscere, perché negli anni 80 io allora ero un ragazzo e veniva a trovarci ogni tanto nel nostro studio di Via Omenoni 2, sempre accompagnato da qualche amico, a sua volta collezionista, e quindi ho avuto il piacere di conoscere questa persona, questa brillante persona estremamente gentile e anche molto colta. In questo lavoro sono stato molto aiutato ed è stato per me anche un vero piacere scoprire tante chicche che ci sono in questa collezione, monete di grandissima qualità, anche comuni, anche a volte monete spiccele, ma di una qualità che io in 40 anni di attività non avevo mai visto e altre monete invece rare e anche di una certa importanza. È stato per me un lavoro estremamente gratificante, anche professionalmente. Nel momento in cui abbiamo deciso di pensare a come rappresentare questa collezione con la copertina del catalogo, l'idea che ci è venuta è di ricreare un po' l'idea dello studio del collezionista e quindi abbiamo immaginato una sera in cui il collezionista ha finito di classificare gli ultimi suoi acquisti col corpus numerum italicorum, lasciasseli gli occhiali e andasse a dormire dopo una serata ricca di soddisfazioni numismatiche. Il secondo collezionista invece ha una storia parallela ma molto diversa. Nasce, come dicevo prima, negli stessi anni. Viene da una famiglia piemontese, una famiglia seria, sana, grandi lavoratori. Quelle famiglie tipiche che vivono nella concretezza, non so come dire. Quindi lui giovane cerca anche a un certo punto di uscire da un contesto forse un po' restrittivo, familiare e regionale e prova a fare fortuna, andare a fare fortuna in Brasile. Però lì insomma non si trova, la gente è molto diversa da quella a cui lui è abituato a che fare. Quindi torna nel suo Piemonte e subito dopo guerra decide di creare una piccola azienda meccanica e lavorando sodo come tanti imprenditori in quegli anni capaci sono riusciti ad avere successo. Si sono create tantissime aziende familiari immediatamente dopo guerra e nello stesso periodo, dopo un breve periodo di collezionismo di Franco Bolli inizia a interessarsi alle monete e ovviamente inizia a interessarsi alle monete della propria regione, cioè alle monete di Casa Savoia. Soprattutto nei primi anni 70, evidentemente con sempre maggiori disponibilità economiche, conosce Mario Ratto, quale è in quegli anni il più grande commerciante del nord Italia, a sede a Milano allora in via Manzoni e da Ratto acquista quelle che secondo me sono le monete più rappresentative della sua collezione. È tutta la parte della monetazione Sabauda dal 1400 fino alla fine del 1700. Compra bellissimi esemplari, due tra l'altro molto rari che vengono da un'asta importante, la collezione Curatolo sempre fatta da Ratto, che era anche una casa d'aste tra l'altro la Ratto numismatica e quindi investe subito cifre importanti in questa parte che crea, a mio modo di vedere, proprio l'ossatura della collezione, quella che soprattutto la caratterizza. Parallelamente va avanti anche con le epoche successive e qui diciamo che acquista soprattutto da quel network di commercianti molto attivi negli anni 60-70 e che partecipavano ogni weekend ai vari convegni commerciali in tutta Italia e offrivano monete soprattutto in questo caso proprio monete del Regno d'Italia e quindi questa parte insomma ha avuto fornitori soprattutto come Bobba, famoso anche perché Bobba è il commerciante che in quegli anni veramente creò il collezionismo di monete del Regno d'Italia anche pubblicando dei cataloghi dedicati e quindi fu veramente uno dei promotori del collezionismo del Regno d'Italia e altri nomi piemontesi come Antoci, lo stesso Marchesi di Bologna, quindi tutti i nomi che mi fanno tornare ragazzo, alcuni ho avuto modo di conoscerli altri meno ma che sicuramente erano appunto commercianti molto molto attivi in quegli anni. Quindi questa seconda collezione ha un'impostazione completamente diversa rispetto all'altra nonostante che due collezionisti hanno vissuto la stessa epoca però forse proprio per il fatto che il primo ha iniziato a 14 anni, tra l'altro altra cosa stupenda del nostro mondo che i collezionisti iniziano veramente da bambini e ragazzini a collezionare e poi vanno avanti tutta la vita. Quindi nel primo caso un 14enne che inizia, nel secondo invece già un uomo avviato insomma anche professionalmente e che ha vissuto soprattutto il dopoguerra, epoca nel quale il collezionismo ha anche cambiato tanto e quindi questa seconda collezione ha assorbito proprio un'impostazione più moderna e quindi sicuramente non 3.000 monete come la prima, qui sono 250 monete, sicuramente c'è una scelta più spinta sulla qualità e meno sulla quantità però sicuramente due impostazioni tutte e due estremamente valide e tornando alla nostra copertina abbiamo voluto anche in questo caso in qualche modo rappresentare con la copertina un po' la personalità anche di questo secondo collezionista per cui è sicuramente una copertina molto più concreta, va subito a sodo, subito gli esemplari migliori, un'impostazione più moderna esattamente insomma come abbiamo immaginato fosse un po' la caratteristica di questo collezionista. ultima cosa che volevo dire è sempre un concetto a cui io tengo molto è che queste collezioni vengono formate nell'arco spesso di lunghi anni lunghe ricerche man mano che vengono formate più crescono e più acquistano un'enorme energia culturale. Questa energia culturale viene immediatamente sprigionata nel momento in cui la collezione viene riproposta in vendita. Infatti a mio modo di vedere guai se una collezione rimanesse congelata per sempre, una volta terminata rimanesse chiusa in un armadio o in un monetiere per sempre. Quando una collezione viene venduta questa energia culturale viene sprigionata, ogni singola moneta va a formare una nuova collezione, va a completare una nuova collezione, muove persone, le persone parlano tra di loro, è sempre un evento quando viene venduta una collezione. I collezionisti condividono poi adesso con i social ancora di più, le loro impressioni, riescono a soddisfare anche spesso grazie all'uscita di una vecchia collezione delle ricerche di anni perché trovano la moneta rara che o non avevano mai visto o che non avevano mai trovato e quindi è assolutamente un momento che ha una valenza culturale enorme nel momento in cui due collezioni come queste vengono messe in vendita. Il catalogo per me è fondamentale perché il catalogo è quello strumento che farà sì che questa collezione sarà ricordata per sempre. Noi che siamo vecchi come categoria abbiamo case d'aste che partono dalla fine del Settecento che hanno fatto vendite, quindi i nostri studi numismatici hanno biblioteche con cataloghi d'aste che vanno dall'Ottocento fino ai giorni nostri e spesso le grandi collezioni vendute in passato noi le studiamo oggi grazie proprio ai cataloghi d'asta e quindi io penso che sia assolutamente importante che in futuro ogni collezione insomma di un certo pregio sia sempre accompagnata anche da un catalogo cartaceo che permetterà sempre in futuro sia io lo dico sempre agli eredi che ci affidano la collezione il catalogo è quello che rimarrà a loro come ricordo insomma di questa raccolta spesso anche dovete tenere presente che molto spesso le collezioni vengono tenute chiuse in una oggi soprattutto in banca e quindi chi eredita una collezione molto spesso non la conosce a solo dei ricordi il catalogo ha la possibilità di ricordare a queste famiglie anche per il futuro come era fatta la collezione e appunto che pezzi la componevano e soprattutto anche poi il mondo della ricerca pensiamo alla ricerca universitaria accademica vive anche grazie allo studio dei cataloghi delle aste e cataloghi delle aste ma anche listini di vendita prezzo fisso è quindi io sarò sempre un sostenitore del catalogo cartaceo a differenza ad esempio banalmente della vendita esclusivamente online però proprio perché è un qualcosa che rimane nel futuro